Ciao a tutti ragazzi Sono Femme95ita E sono tornato Finalmente ho carico un altro video Perché sto aspettando un sacco di DCBM Dopo 4 giorni Ben 4 giorni che non caricavo video E si sono qui e vi porto 2 DCBM Fantastici Ma prima un ringraziamento a tutti i 400 iscritti Siete fantastici Ragazzi che mi sostenete Vi guardate i miei video Che mettete i miei mi piace Poi vabbè per quelli che non mettono non mi piace Ma se non vi piace un video Fa niente Che non è che faccio video perfetti Tra virgolette Però Comunque E che dire Grazie a tutti anche per le 19.000 visualizzazioni Ormai oggi mi sa che compio 3 mesi su Youtube 400 iscritti 3 mesi può bastare Perché c'è anche gente che sta un anno E c'è ancora 100 iscritti E vabbè Oggi come potete vedere Ho adottato una scenografia Alla Dark Explorer O Exploratori delle Tenebre In italiano Perché ci sarà bene una ex E una full art Nei DCBM Di Exploratori delle Tenebre Guardate tutto il video E per chi non lo sapesse C'è in corso La Raffle La Raffle più grande Dell'universo Dei poco Perché finora Io so Ho guardato in America In tutto Dappertutto Non c'è mai Non c'è stato nessuno Che l'abbia fatta grande come me Mi posso considerare il primo al mondo E vabbè Andate ad iscrivervi Le regole le troverete nel video E iniziamo con il DCBM Il primo è stato fatto con San Battere Frontier Una persona mitica Al 100% E vabbè Adesso vi farò vedere In questa bustina Cosa mi ha spedito Ci ha spedito Questo fantastico Grotto Ex Che non scambio Già lo dico Senza che poi me lo chiedete Lo mettiamo Qua La prima è questo fantastico Grotto Ex Questa fantastica Bustina Che la mettiamo qua Che mi mancava Tra l'altro Poi Il secondo DCBM Fatto con Niko Utopia Mi sembra che è il mio Secondo DCBM Con lui E ci manda Prima questo Fantastico Fantastico Disegno Di Zoroak Mi piace troppo Ragazzi Mi piace troppo Io vorrei mettere qua Ecco Questo fantastico Disegno di Zoroak Vediamo prima Le extra Le extra sono Questo Ferocid Ceferutom Reverse Guardboard Reverse GoFill Reverse Solosis Reverse Gigalit Reverse Escolibe Reverse E un codice online Ecco E queste sono le extra Ma la full art Ragazzi La volete vedere? Anzi no Prima vi faccio leggere Il bigliettino Perché mi sono scordato Di farlo leggere Comunque Iscrivetevi al loro canale Sono due persone fantastiche Ciao Tratta bene Darkeray Se no Se no io Vabbè Spero che non sia l'ultimo Di si bianco a te Ciao Danico Topia99 Ti piace il disegno? Il disegno mi piace moltissimo Io stupidamente Vi ho fatto leggere il biglietto Che ormai sapete che carta è Però Io vi faccio lo stesso Così La volete vedere? Eccola qua La carta Più rara Del sect Di Esploratori Delle tenebre Esattamente Darkeray Ex Full Art È una carta fantastica Vale Veramente tantissimo Ringrazio tantissimo Nico Utopia È mint in perfette condizioni Bellissima Grazie Nico Utopia E che dire Il video È finito Commentate Partecipate alla mia raffle Se ancora non siete iscritti Andate a dargli uno sguardo Naturalmente Se starei guardando questo video Tra un anno Sarà sicuramente finita Comunque Iscrivetevi Mettetevi Un bel mi piace E commentate Ciao Da Federico 95 Eda Pollice in su